A Villamare per ritirare il premio alla carriera, Villamare lo conosceva? No, è la prima volta e tutte le volte che arrivo in Italia in qualche posto rimango stupefatto dalla bellezza che ci circonda. A chi lo dedicherà? Ma lo dedico agli italiani che mi hanno voluto bene e io ho amato loro. Gli italiani che sono la linfa del cinema perché basta guardarli per poter raccontare delle storie che possono essere buffe, possono essere drammatiche, possono mettere in mostra delle piccole grandezze o delle piccole miserie, ma sono un popolo straordinario. Che cosa hai imparato dagli italiani? Che bisogna essere un po' fatalisti nella vita. Noi abbiamo avuto una storia travagliata di invasioni, di divisioni, di guerre civili, però l'italiano ha mantenuto saldo quello spirito un po' la totò che sbeffeggia i potenti e crede nel buon umore e nel vedere le cose sempre con uno spicchio di luna e di sole insieme. Cosa bisognerebbe fare di più per renderla più attrattiva questa Italia? L'Italia è attrattiva di suo. Bisognerebbe organizzarci un po' meglio. Noi siamo brevissimi a parlare, a dire, a raccontare. Poi quando c'è da organizzare qualcosa perdiamo le guerre. Lei è il re delle commedie. Perché le commedie e la commedia e non altri generi cinematografici? No, ma io ho fatto un po' di tutto. È chiaro che come percentuale le commedie è un po' di più, ma la commedia, soprattutto la commedia dell'italiano, è quella che ha raccontato meglio questo paese dal dopoguerra ad oggi, secondo me. Ultimamente, ho anche detto, stavo a Forte dei Marmi, ho fatto un appello al Ministro della Scuola e della Cultura, insieme, tutte e due, per cercare di mettere un corso di commedia dell'italiana nelle scuole. Perché forse i nostri ragazzi, che ormai sanno tutto di Miami, di Los Angeles, ma sanno poco di chi siamo, vedendo 30 film della commedia dell'italiana, potrebbero capire da dove veniamo e come siamo fatti. Intanto lei si è già adeguato alle nuove abitudini, a quello dei social, ed è su Instagram. Cosa fa? Ma su Instagram cerco di mettere un po' di leggerezza. Siccome generalmente sono frequentati da molte persone che fanno vedere il loro corpo, invece ho cercato di far vedere cosa c'è dentro la testa. Per cui parlo un po' di cinema, parlo di letteratura, di poesia, di cose buffe, faccio delle cose molto divertenti con mio nipote, che è un genio, mio nipotino, e soprattutto racconto l'Italia. Siccome viaggio molto cerco di raccontare la bellezza di questo paese, dobbiamo essere veramente fieri di essere nati qua. Racconterete anche il cilento a questo punto? Spero di sì. Tra oggi e domani farò qualcosa e questa rubrica ha una specie di nome. Che grande fortuna essere nati in Italia. In realtà è che culo essere nati in Italia. Grazie. Grazie. Grazie.